Dal TAV Trasimeno all'inizio del campionato invernale volevamo avvisare Umbria Verde che il TAV Trasimeno non viene a fare la scena ma viene per vincere e per comandare. Vai, ecco l'inno della nazionale della forchetta. Il problema nella testa funziona a metà, ma l'altro parte il suono. E ogni volta che mi parte si ferma raffante, come quella volta che stava al ristorante. E se mi c'è da noi! Questo è il tuo rito. Noi lo rinneghiamo questo rito. Pensate che è un dottore. Perciò, dina qua. Non so se so pazzo, non so un genio. Faccio i selfie così, a due perché non mi dico. Non c'è niente. Ma non c'è niente. Io non faccio. Ora, ora, ora che è il rito in Nello, doc. Tore, tangenziale, andiamo a comandare. Andiamo a disteneri. Andiamo a comandare. Andiamo a comandare. Andiamo a comandare. E il suo culo a durare. Andiamo a comandare. Secondo me andiamo a fare una figura di merda al solito. Vabbè, ma l'importanza è crederci. È crederci. E comandare. Lorenzo. E for. E for. E ulaltare. E eraint.